La bestia nera della Feralpi Sarò Buone a Vicenza, adesso sei qui sul Garda, i tuoi obiettivi ovviamente? Sì, ho fatto sei mesi positivi a Vicenza, adesso sono venuto da Feralpi e speriamo di continuare a giocare e di fare qualche gol in più Descriviti un po' le tue caratteristiche principali, anche se già le conosciamo e soprattutto che ambiente hai trovato? Ieri sinceramente ho trovato un ambiente molto sereno, molto unito, il mister Scienze mi ha presentato subito la squadra Qualcuno lo conoscevo già e qualcuno avrà modo di conoscerlo, ma mi sono sentito subito parte integrante di questo gruppo Sono un giocatore che può fare la seconda punta all'esterno, magari nel modulo che usa il mister Scienza, che l'ho già fatto tranquillamente Mi piace puntare l'uomo, sono un mancino e basta In bocca al lupo allora Francesco Galoppini e benvenuto Trepi, grazie e sono contento di indossare questa maglia